Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, venerdì 12 ottobre. Vi ricordo che questa sera ci sarà Matrix, anzi ve lo ricordo, lo dico, ai pochi che si sono fatti sfuggire il Matrix di venerdì. Prima puntata di venerdì, siete state molto numerosi questa sera. Parleremo del caso Ronaldo e di tante altre vicende, diciamo della cronaca un po' più leggera. Alla fine della settimana ci vogliamo anche un po' divertire, cosa che non fanno i giornali, perché oggi i giornali si occupano soltanto delle grandi questioni economiche e anche di una grande questione tragica come la vicenda di Cucchi. Partiamo da quest'ultima, forse che è di fatto la più semplice e la più univoca per tutti quanti i giornali, cioè un carabiniere dopo 8 anni ammette di aver partecipato, di aver visto un pestaggio a Hug Giorgio del giovane Cucchi che era stato arrestato per aver spacciato, per essere un presunto spacciatore di droga perché è stato beccato con un po' di marijuana, non lo so con cosa l'hanno beccato, l'hanno portato in questura, l'hanno pestato, l'hanno preso a calci, poi è morto, ci sono stati processi, Cassazione che ha rinviato, insomma per farla breve, dopo 8 anni si scopre che questi carabinieri l'hanno malmenato, almeno così dice qualcuno. Hai telefonato il tuo amico Vauro, dice Flavio Raffo, non so che cosa voglia dire, non sto ridendo per niente. La cosa fondamentale è che devo dire che la giustizia, soprattutto quando si tratta di organi dello Stato, i carabinieri tali sono, certo ci mette un po' troppo forse a trovare il percorso più giusto, quello che è successo ancora non si sa bene, però quello che sta evidenziandosi in questo momento è che questo è stato veramente una grande, se così dovesse essere una grandissima copertura di Stato. Sulla questione invece economica fondamentale di oggi, cioè le pensioni e la polemica di oggi, devo dire un po' sbiadita, semplicemente perché ormai seguono sempre lo stesso canovaccio, è quella sulle pensioni. Quota 100 in un'audizione al Parlamento, dice Tito Boeri, presidente dell'Inps, costa 100 miliardi, il debito aumenta di 100 miliardi. Andando poi a guardare con maggiore attenzione su quello che dice Boeri, di questi la cosa ridicola è che 5 mila di questi 400 mila potenziali beneficiari di quota 100 sono anche quelli stessi che voi vorrete punire perché sono cosiddetti pensionati d'oro con pensioni superiori a 90 mila euro. Questo dice Boeri. Più interessante secondo me è poi l'analisi nel dettaglio, per esempio quella di Marro su Corriere della Sera che ci racconta come 150 mila di questi potenziali 400 mila siano dipendenti pubblici, quindi una grandissima manovra come spesso avviene per cui prendiamo i soldi dei contribuenti per poter far andare il prepensionamento dei dipendenti pubblici. La tesi è che noi mandiamo in pensione, lo dice Salvini ieri, da una parte utilizzando con poca, diciamo, come possiamo dire, fantasia, dice si candidi alle elezioni Boeri e francamente l'aveva detto il giorno prima su Banca Italia anche Di Maio, insomma deve trovare qualcosa di più originale. Dall'altra, ed è la tesi di questo governo, se mandiamo in pensione 400 mila persone assumiamo 400 mila giovani. Insomma questo è tutto da vedere se le aziende una volta che prepensioneranno utilizzeranno queste come saving di costi invece che come investimento. ha fatto le poste, ricorda oggi un pezzo di marro dove avrà 18 mila uscite programmate da qua al 2020 e soltanto 7 mila nuove assunzioni. Mi chiedete la voce? Purtroppo sono a capena alla VURT e non ho il mio solito microfono come vedete, non ho il microfono quindi si sente un po' male mi scuso con tutti quanti voi sarò più breve del solito. è fantastica sulle pensioni Belpietro oggi attacca sulla questione delle pensioni perché dice in maniera molto semplice ma insomma ancora non conosci la manovra come cavolo fai a dire che ci costerà 100 miliardi. Andiamo velocemente sulle altre notizie di giornata l'Italia secondo il Sole 24 Ore si farà una NUCO parla con Di Maio, Ministro di Sviluppo Economico e questa NUCO sarà capitalizzata per 1,5 barra 2 miliardi il 15% sarà del tesoro che convertirà il suo prestito di 900 milioni nel 15% della società adesso i conti poi dopo li faranno giusti e dovrebbero entrare anche le ferrovie dello Stato e un partner tecnico internazionale un partner tecnico internazionale che non so ancora chi sia e né Di Maio lo rivela e poi dice Di Maio ci sarà una sinergia così un turista che viene in Italia compra un biglietto avrà la sinergia tra aereo e treni perché i treni entreranno insomma io la sinergia tra aereo e treni la faccio ugualmente e penso che questa sinergia per esempio sulla Roma-Milano non so come si possa fare posto che sono uno concorrente dall'altro ma stante insomma questi per l'ennesima volta Berlusconi, Prodi tutti hanno provato a salvare l'Italia e pensate un po' voi se non lo fanno anche i sovranisti tanto alla fine il conto lo paghiamo sempre nei contribuenti funziona così all'Italia ogni tanto diciamo che la rilanciamo si rilancia per 3-4 anni ogni volta ce n'è uno che la rilancia prima erano Capitani Coraggiosi Berlusconi poi c'è stata l'Etiad poi che cacchio ne so io prima ancora c'erano KLM Airfronts sempre rilanciata poi alla fine paghiamo il conto noi di questa azienda tutto questo per incentivare il turismo italiano chissà quanto ci è costato questo incentivo del turismo italiano Mattarella dice il condono a proposito di questioni economiche si è capito dalle prime bozze del decreto fiscale che non ci sarà perché una piccola lottamazione fino a 1000 euro non è un condono e quindi vince diciamo l'anima grillozza del governo e infine vi segnalo Mattarella che tutti quanti i giornali prendono a grande monito di Mattarella che ieri dagli studenti che cosa dice? dice il potere può inebriare tutti la leggono come una frase detta nei confronti della politica che se l'è presa e questo è vero sia con la Banca d'Italia sia con la Consob sia con tante autorità indipendente cosa perfettamente vera è giustissimo pensare che ci siano i check and balance cioè che il Parlamento non governi senza avere autorità indipendenti che siano lì a controllarlo e ad avere poteri alternativi esiste in qualsiasi democrazia la dittatura della maldemocrazia è una dittatura peggiore diceva Tocqueville di quella dei monarchi per il semplice motivo che si ha la presunzione che siccome democratico è cosa buona e giusta invece è ovvio che la dittatura della democrazia sia un orrore della modernità quando si verifica però c'è una piccola cosa che chi dice che il potere può inebriare Mattarella che si fa fare il pezzo da chi? da Marzio Breda il suo scrivano come tutti quanti quirlanisti è ufficiale quello che non sbaglia neanche una virgola rispetto a quello che gli dicono i suoi consulenti e soprattutto uno che il potere lo esercita da 40 anni come ministro come giudice come presidente della Repubblica ha fatto tutto insomma ovviamente il potere può inebriare sempre e comunque gli altri non quelli che fanno dal massimo situazione di potere la predica sul potere che inebria io la trovo fantastica questa è la gigantesca ipocrisia del potere che inebria quello che non inebria invece è la commissione europea che decide oggi su tutti i giornali che la benzina non si chiama più benzina ma è il gasolio non so come diavolo si chiami quindi in tutta Europa abbiamo un nuovo nome della benzina un nuovo nome del gasolio questo tutto in virtù della diciamo della moneta unica europea vera che è il linguaggio e come possiamo dire la standardizzazione di tutto bene direi che per il momento è tutto oggi sono appunto prima qui a Capena poi questa sera vedrete in televisione a Matrix una puntata molto scoppiettante ecco Michele ce lo dice il gasolio si chiama B se vi piace il condono parte del cipro maestro fino a 200.000 euro secondo me lo faranno in modo che per ora parla soltanto a 1.000 euro cartelle di 1.000 euro secondo il decreto fiscale lo sfondo non so quale sia è un orologio e noi ci vediamo e condividete questa zuppa questa sera ciao ciao